ordine ricevuto mi muovo nemico neutralizzato sto bruciando munizioni 74 con la pistola ok bersaglio neutralizzato 59 con la pistola non ho dei fucili precisioni ottimo dobbiamo correre tipo dentro ok si può fare c'è puro Nico 1 ricevuto dice che ne lascio gli dietro tanto corro d'accordo ok eseguo modalità medica ok mi muovo 4 turni scatto faccio proprio uno scatto qui se lo ricordiamo meno sono 5 è il segnale di soccorso disabilitatelo prima che gli alieni scoprano dov'è il lufo ordine ricevuto mi muovo sono in allerta roger sono in allerta perché donna salvata ragazzi sto di guardia mi tengo pronta raggiungo la posizione il generatore della nave dovrebbe essere una nuova versione di quello è l'aerium che alimenta la venger e vai zitti sentite qualcosa cazzo il robot vedo troppe advent vedo troppe advent cazzo scusa nicoloma ok ok si può violare tutto abbiamo distrutto il segnale alieno i cieli sembrano tranquilli non vorrei ingaggiare lo scontro lì dentro sinceramente si può fare direi che mi ritiro sta andando eseguo eseguo parto ok eseguo eseguo fatevi sotto mi muovo all'istante e andiamo a portapallo di support e andiamo a portapallo di supporto ok che male che mi ho fatto quella quella è tosta grande preso ho trovato qualcosa aia sono ferito sono ferito sono ferito sono ferito ok masi mi muovo un Tengo pronto! Perché non vorrei spaccare il computer e quanta tutta roba... Poi ci sono due turni per muovere in qua... Allora... Vabbè fai una cosa, fai uno scatto in dietro... Intanto... Guardia... D'accordo! 57... E' un guardia... Ehm... No, non credo che ne sia bisogno di curare... Eseguo! Infatti, come immaginavo... Oh, ma che cazzo? Li manca tutti? Eh, li era tutto! Mancato! Manofrano sui fianchi! Ma dai! Ma serio? Non ci credo! Ti hanno colpito! Mamma mia! Sto facendo... Qualcosa! Allora... Allora, andato di carica tu... Di nuovo in partita! Carica... Andiamo! Sparali! E l'ha mancato di fronte! Di fronte l'ha mancato! Mancato! Come si fa? Ehm... Tu aspetta... Affermativo! Buono il 100%! Una pistola? No! Una pistola? No! No! Quando si parla di situazioni critiche... Ehm... Va e cura! Ok Grande Don Senza munizioni Non dovrai che Lanciata Voilà Ce l'abbiamo fatto GG ragazzi GG cazzo Nunca mi lo Se non avesse beccato L'ultimo colpo Sono bastati problemi Grande Don Tu sei un po' Una bastarda Perché Cioè Dovevi beccare Cazzo Dovevi beccare Vabbè Aspettiamo Aspettiamo che torno E poi Riprendo Ok ragazzi Rieccoci Torniamo alla base Finalmente Sì No Sì No Ah nessuno è salito di livello Sei missioni Mentre tre uccisioni Nico Capitale Capitale Ehm Maniculmini E' ancora buono No 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 L'abbiamo scoperto Caricatore avanzato Un aumento di un scelte Crede di due Buono Artefatti Ah buono Antibirino Lasso Ah Voluntà ridotta Mamma mia Vabbè Ragazzi Direi che ci vediamo Direttamente La prossima puntata Ciao a tutti Alla prossima Abbiamo 200 riserve Possiamo fare un po' di cose Beh La facciamo la prossima puntata In ogni modo Ciao